Buongiorno cari clienti, sono sempre il vostro Matteo Barberi. Oggi andiamo a parlare di alcuni aggiornamenti fatti in piattaforma proprio in questi giorni, per quello siamo oggi, sto registrando questo video che è il 13 di aprile, e vediamo insieme quali sono le piccole modifiche che possono aiutarvi nei vostri processi di acquisizione clienti che sono state implementate in ForMeeting. Ora andiamo a chiudere questo banner, se no ci troviamo con un po' di eccessivi grandezza, qua non lo nascondiamo, andiamo a condividere subito la piattaforma, per quello andiamo a vedere un attimino quello che si può fare, andiamo in full ed eccoci qua. Allora, in ForMeeting, quando andiamo a creare il nostro corso, perché andiamo sempre sulla tab Corsi, una volta che abbiamo deciso che questo corso sarà in vendita, andiamo a mettere il nostro prezzo, che era ovviamente già presente, abbiamo inserito un doppio sconto rispetto al precedente, che era solo l'utilizzo di un semplice coupon. Il coupon, come voi sapete, è un ottimo strumento che può essere utilizzato in fase di vendita, in questo caso create il codice e lo inviate alla vostra lista, attraverso il vostro CRM, attraverso i vostri sistemi di email marketing, abbiamo inserito anche un secondo in modo tale da avere due quotazioni diverse sul prezzo iniziale, questo è uno sconto in euro, che viene caricato anche sul secondo, abbiamo aggiunto però anche la possibilità che il corso sia in prova. Cosa vuol dire? Che una volta sulla landing page del corso apparirà una dicitura che il corso è in prova, vuol dire che tu puoi far provare il corso per i giorni che io andrò a inserire, in questo caso vedete dieci inseriti, questo corso diventa di prova. Ovviamente ho la possibilità attraverso ForMeeting di creare un, quello che si chiama un lead magnet, piuttosto che un punto di partenza della mia scala di valori, nel momento in cui io posso far provare all'utente per cinque giorni, sette giorni, dieci giorni, dal momento in cui si iscriverà al decimo giorno, il sistema bloccherà sostanzialmente l'account in automatico, ma avete acquisito in questo caso che cosa? I classici dati che poi voi chiedete durante la compilazione e da lì avete un lead, cioè un contatto con cui potete vendere il corso e questo è un ottimo strumento da utilizzare poi nelle vostre campagne d'acquisizione, perché se posso provare il corso, io provo per dieci giorni, io acquisisco senza avere già un sistema perché me lo fa ForMeeting per voi, io non devo avere nient'altro e lo fa automaticamente, gestisce l'escrizione, manda i codici e li blocca da solo dopo dieci giorni. Io so però anche quelli che sono scaduti, perché posso inviare un invito, posso inviargli un codice sconto, per esempio dopo che lui ha fatto la prova, questo potrebbe essere una strategia più semplice che mandare il coupon, perché posso avere due coupon diversi e io invio il coupon solo al termine della prova e questo è un qualcosa di molto interessante che può essere utilizzato durante il nostro percorso. Come avete visto, era già presente, c'è anche la funzione lead generation, sì o no, che funzione è questo lead generation? significa che nel momento in cui sul catalogo personale o del corso o sulle landing page che genera ForMeeting, l'utente può richiedere lui il coupon, ok? E in automatico viene prelevato il primo coupon, quello che è il codice sconto 1, qua si mette esattamente 15 euro, lui otterrà un coupon sconto da utilizzare per le iscrizioni, facendo lead generation attraverso il coupon e non attraverso la prova. Sono due strumenti che avete a disposizione per generare contatti, ok? Possibili clienti o con la strumento del coupon lead generation chiedendo l'email a fronte di un'email o quello di utilizzare, io te lo do in prova per un mese, una settimana, quello che vuoi, in full vision, cioè te lo vedi tutto e io ho in mano un'email. A voi il modo migliore per recuperare i corsisti senza fare e o da avere altre applicazioni, altri programmi con altre applicazioni diverse, con un costo notevole, ecco di mostrare che questo, molte piattaforme di funnel marketing non ve lo offrono, di andare ancora con delle applicazioni esterne e che accordi che un'applicazione semplice che sia funzionante ha un costo, l'avete già all'interno di 4Meeting. Ecco perché parliamo anche dell'area di marketing a vostra disposizione. Non vi faccio perdere più tempo, alcune news che vado a sempre ricordare a tutti voi clienti sono da una parte, ricordo, andiamo da questa parte, brand, così almeno tiro fuori, ok, vediamo se è questa, da qualche parte invito chi non si è iscritto all'Academy, eventualmente può mandarmi anche un'email che gli mando la prova di un mese, può provare un mese il percorso che oggi è arrivato ad avere quasi 180 ore di formazione, come si crea un corso di successo dall'AlaZ, dove vi aprirà una visione molto completa su due grandi aree, da una parte la strategia, dall'altra parte gli strumenti, in medio ci sono le tattiche, parliamo anche di come si fa un webinar, come si registrano, come si creano i corsi, come si fanno, come si crea un corso, come si creano le animazioni, come si utilizza la grafica, tutta una serie di strumenti che oggi io ritengo, strumenti e strategie, che sono, direi, fondamentali per far sì che il ritorno dell'investimento che voi fate di tempo, di denaro nella formazione sia più alto possibile, perché, ovviamente, costruire un corso o progettarlo o realizzarlo, oggi non vi è bisogno solo dell'MS che fornitivi da disposizione, ma anche come caricarlo e costruirlo. Quello è un lavoro che ho preparato in questo percorso in cui vi do anche tanti tool free in cui il vostro addetto o voi stessi o chi desidera può cementarsi e farlo tranquillamente e avere un prodotto vendibile sul mercato se parliamo di corsi a catalogo e a prezzo. Ok, quello è molto molto importante. Altro aspetto, per chi non avesse ancora chiesto eventualmente una consulenza con me può inviare un'email e avete a disposizione un 20 minuti in cui parliamo di strategia di acquisizione clienti o di vendita o di acquisizione o quello che è il vostro progetto di ente formativo o da professionista che vi può permettere di crescere. Mandatevi un'email e sono a disposizione. Per adesso vi ringrazio molto guardate ed implementare e utilizzare questa nuova funzione e da Matteo Barberi for Meeting un grazie infinite. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.